Buongiorno amici, in questo video oggi vi leggerò qualche passo di questo libro di Michela Murgia Noi siamo tempesta, storie senza eroe che hanno cambiato il mondo l'ho preso dalla mia libreria perché veramente ogni volta che lo riprendo e leggo qualche passo mi entusiasma e quindi ve lo consiglio, vediamo cosa c'è scritto qua, vediamo, c'è scritto L'unione fa la forza o chi fa da sé fa per tre? La realtà non lascia dubbi, le cose che contano le abbiamo sempre fatte insieme ma la letteratura continua a restituirci la trama di una massa umana scolorita da cui spiccano solo i singoli eroi esiste una strada per farci tornare la voglia di essere speciali insieme? Ecco avete capito perché ho deciso di leggervi questo libro? Perché io da tantissimi anni professo l'importanza e la bellezza di organizzare attività sociali o attività professionali, imprenditoriali assieme Io stesso tante volte l'ho testato, l'ho fatto a livello così personale o a livello professionale per cui questo libro mi sta proprio a cuore Michela Murgia, Michela Murgia vediamo, è nata a Cabra, è stata tradotta in tutto il mondo ha esordito con Il mondo deve sapere che ha ispirato il film di Paolo Virzi, Tutta la vita davanti e ha scritto, tra le altre cose, il romanzo a Cabadora, premio Campiello 2010 ok? Ha anche delle immagini molto carine si tratta di 16 racconti praticamente sono storie che l'autrice sono storie vere, alcune sono storie vere, altre sono totalmente inventate quelle che sono storie vere, di fatto lei i dettagli non li conosceva di queste storie vere ha cercato di ricostruirli in modo tale da contestualizzare al meglio il messaggio che poteva passare o che era corretto far passare rispetto alla dinamica del lavoriamo assieme, organizziamoci assieme perché assieme è possibile fare grandi cose anche senza avere singoli eroi ok? Il racconto che ho selezionato adesso è questo 300 Termopili la guerra delle Termopili 300 Grecia 480 avanti Cristo molto molto carina leggo, passiamo subito alla lettura nel mare non esistono pesci piccoli vedete? vi faccio vedere perché sono delle belle immagini e quindi nel mare non esistono pesci piccoli, solo pesci disorganizzati e soli siamo qui alle Termopili siamo qui alle Termopili da ore e sappiamo che sarà una battaglia persa non c'è bisogno del divinatore che guardi nelle viscere degli animali per indovinare il nostro futuro saremo sconfitti eppure restiamo qui abbiamo speranza gli uomini spesso scambiano l'ambizione con la speranza l'ambizione è il desiderio che le cose che fai si realizzino così come le vuoi la speranza è la certezza che fare quelle cose abbia un senso comunque indipendentemente da come finiranno perché? perché ci sono cose che vanno fatte solo perché è giusto ed è necessario è per quelle che siamo qui che vuole vincere sempre intanto intanto però è da due giorni che non capisce nemmeno cosa stiamo facendo crede che l'uomo che ci comanda di cui ancora non sa il nome sia un pazzo suicida che ci conduce alla morte senza senso nel corso degli anni lo hanno pensato in molti poi però alla fine i morti li hanno contati soprattutto tra le loro file mentre la maggioranza di noi tornava a casa dalle spose e dai figli Leonida è il nome del nostro combattente eppure quando eravamo ragazzi non ci sembrava lui non ci sembrava lui quello giusto tutti tifavano per Nicandro che era forte, veloce come una lepre e temerario pieno di carisma avevamo solo 16 anni ma eravamo già certi che sarebbe stato lui a comandarci e non vedevamo l'ora di obbedire a un capo così coraggioso e forte un giorno però accade una cosa che ci fece capire che stavamo sbagliando la valutazione facevamo il bagno tra le onde della costa e l'acqua brillante ribolliva delle bracciate e degli spruzzi di quasi 300 di noi tutta la nostra generazione di quell'anno, la stessa che oggi combatte qui qui tra le pareti delle termopili il nostro maestro d'armi ci chiamò ci chiamò a riva e ci propose una sfida molto difficile eravamo a pochi chilometri dal porto di Messene e lui ci chiese di immaginare di essere in guerra e di venire mandati là a prendere questa importantissima informazione quante sono le navi ancorate al porto? fatemi arrivare la risposta nel minor tempo possibile come se dalla velocità dipendesse la sopravvivenza di tutta Sparta si trattava di correre non meno di sei chilometri tre all'andata e tre al ritorno e Nicandro si offrì immediatamente affermando di poter andare veloce come una scheggia in direzione del porto vado solo, non serve che andiamo tutti ci metto meno da solo, ci metto meno io ci sembrò la scelta più logica e lo applaudimmo incoraggiandolo lui era di noi senza dubbio il più veloce non era andato via nemmeno da un minuto quando Leonida, che era rimasto zitto mentre l'altro si offriva di fare la strada tutto da solo, disse ho un'altra idea lo guardiamo tutti, curiosi di sapere che idea migliore ci potesse essere dato che nessuno di noi era veloce come Nicandro, nemmeno lui laonte, tu sei svelto di gambe corri appresso a Nicandro e conta le navi ma non sarò mai veloce come lui arriverà almeno 5 minuti prima di me non devi essere veloce come lui perché a differenza di lui non correrai la strada del ritorno svelto disegnò uno schema sulla spiaggia, sulla sabbia mostrando come non fosse necessario che una sola persona facesse avanti e indietro tutto il percorso bastava che uno contasse le navi e poi segnalasse la risposta a un compagno rimasto indietro almeno di 100 metri lungo la linea di sabbia leonida ci dispose in modo che da ogni postazione vedessimo il compagno successivo ci fidamo della sua idea e così mentre laonte correva presso Nicandro ognuno di quei 300 ragazzi dai più rapidi a quelli più lenti si posizionò a catena lungo la linea del tragitto e quello che avvenne fu qualcosa di straordinario laonte come aveva predetto riuscì a contare le navi almeno 5 minuti dopo che Nicandro era già partito ripartito ma l'informazione raccolta da lui grazie al sistema ideato da leonida ci mise solo pochi minuti a tornare indietro da solo nessuno sarebbe stato veloce come Nicandro insieme invece lo siamo stati di più quando lui sfinito e ansante arrivò gridando 6, 6 sono le navi il maestro aveva già ricevuto l'informazione dall'ultimo di noi rimasto alla base uno che non aveva dovuto correre nemmeno a 100 metri da allora smettiamo di pensare che Nicandro sarebbe stato il capo ora che preme la battaglia e che i persiani si avvicinano la lezione di quel giorno torna tutta intera a darci forza le pareti di roccia in cui ci siamo infilati funzionano come argini i tempi di un fiume con l'acqua innalzano il livello aumentano la pressione e rendono tutto veloce e potente per due giorni abbiamo resistito così meno di 300 contro più di 10.000 una cosa che non ha senso né in matematica né in guerra eppure siamo riusciti a farlo nessun altro avrebbe potuto perché nessun altro è addestrato come noi a pensare insieme ad agire insieme come se fosse uno anche quando siamo 300 crescere così è stato duro perché pensare al plurale è più difficile che pensare per sé solamente ma è la ragione per cui Sparta a differenza di tutte le altre città della Grecia non ha mai avuto bisogno di eroi avete mai guardato come agiscono i pesci piccoli con il loro banco quando si avvicina il predatore? è un processo misterioso nessuno lo comprende ancora bene ma accade che cominciano a muoversi in sincrono tutti insieme seguendo la stessa direzione e facendo gli stessi identici movimenti stretti uno accanto all'altro come se fossero un pesce gigante un corpo unico di 10.000 pezzi collegati il predatore che si era preparato a una caccia facile di creature piccole e disorientate dal pericolo non si aspetta quello che vede davanti a quella danza di piccole creature niente sembra facile tutto assume i contorni giganteschi di un'unica creatura argentata e la dove potresti colpire qualunque pesce va a finire che non sei più che pesce colpire nel mare non esistono pesci piccoli solo pesci disorganizzati e soli da soli si muore di più e prima da soli non si vincono le battaglie da soli si ha sempre paura ma a Sparta nessuno è mai stato lasciato da solo davanti al pericolo e oggi meno che mai giunga dunque lo squalo serse di Persia ci troverà pochi ma brillanti e uniti pronti a fare quello che nessun eroe solitario farebbe trasformare una sconfitta in leggenda bello bello veramente ragazzi poi qui parla un attimo della battaglia del termopili proprio Grecia 480 a.C. la battaglia del termopili che durò solo tre giorni è una delle più famose dell'antichità perché al di là dell'eroismo degli spartani dimostra che l'intelligenza la coesione e l'azione congiunta possono ottenere risultati che con una quantità di persone anche molto maggiore ma non così organizzata sarebbero impossibili la ragione è che quella spartana era una società militaresca che riversava tutte le energie nella sua difesa educando i cittadini e le cittadine secondo criteri collettivi così rigorosi da essere diventati proverbiali a causa di questa focalizzazione militare se uno oggi andasse a Sparta non troverebbe alcuna delle belle opere d'arte di cui c'è traccia in altre città dell'antica Grecia perché gli spartani pensavano solo all'attività militare e questo li rendeva capaci di essere di grande dedizione in battaglia lo storico erodoto racconta che prima di partire per le termopili l'oracolo di Delfi profetizzò che la battaglia sarebbe stata cruciale per la guerra contro i spartani ma Leonida vi sarebbe certamente morto convinto della verità della profezia Leonida prese con sé solo 300 uomini e li scelse tra quelli che avevano già figli in modo da garantirne la discendenza ragazzi è proprio bello questo racconto tratto da questo libro di Michela Murgia noi siamo tempesta inteso come insieme di singole goccioline che però messe assieme possano creare una tempesta e scatenare cose incredibili inverosimili spero che questo racconto possa essere oltre che piaciuto servito a ragionamenti utili per la crescita personale o professionale ci vediamo al prossimo racconto